e adesso siamo da tutt'altra parte con ellie vedete un po e da qui dove sei andata 24 25 constance dove l'ha trovato? sì deve essere questo cioè ancora ti cerca ellie stai sbagliando belle resti di pesce e farà una brutta fine Abby e ragazzi qui si vede palesemente che ellie e Abby si stanno avvicinando sempre di più io non so come ellie sia arrivata fin lì ma ci è arrivata ah che bel posto si è schiantata praticamente va bene dopo una vita e mezzo torniamo a usare Ellie questo è un scenario da uncharted io le sparo ma le indovino anche call of duty prima uncharted e ci sta ragazzi eh assassin's creed varalla anche abbiamo nominato una volta come ci abbiamo un botto di cose eh sì non abbiamo lanciafiamme che poteva tornare utile però oh tutte le nostre cose che bello che qua sopra cosa c'hai niente grazie sembra promettente qua sopra non ci salta che bei posti ma è bella Santa Barbara l'altro che sietolo o cazzate varie ma viva Santa Barbara raga qua che c'è non si sa però aspetta un secondo di là voglio andare di là eh vedi che comunque c'è sempre qualcosa la munizione pistola ne è valsa la pena io credo che per salire sia di là quindi qua c'è un bastone onesto onestissimo e la si è che a questo punto andiamo bene così solo per dire ok io mi sono fermato di qua e di qua una panchina rotta e su questo si scavalca tranquillamente brava Ellie che sicuramente sei più agile di quell'altra e adesso Mesa Bluff io sono qui e Santa Barbara si trova di là ok ovviamente infetti giustamente comunque ho capito perché Joel e Abby dovevano fabbricare i coltelli clicco ovviamente perché poi i coltelli erano infetti non potevano esseri utilizzati invece Ellie essendo immune li può riutilizzare ha senso raga che a questo punto fare questo voglio le frecce normali e fare così c'è un clicker e come se c'è non capisco perché non mi rivea il dardo però vabbè oh bello tutti i pezzi lame cose dove è il martello forse un pochino più di comodo lo fa eh non è per di ma ok c'è la jumpback lì crozzo non mi ha visto non mi ha visto che cazzo che cazzo che cazzo è laggiù gli stalker sapevo 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 io sapevo io sapevo 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 tutto esplodi coglione la colonna sonora è un blotter ti vedo fra ops proprio piantata in testa bene così non potete far morire voi raga comunque si è confermato che gli stalker sono peggio dei clicker assolutamente che non c'è modo di andare di qua quindi noi saliamo su esattamente a chi dove era il buco qua c'erano due basta infetti vero ci sono dappertutto bello prenderlo così sarà bellissimo bello lì mai stiamo facendo esperienza non mi dai il dardo bastardo fa anche rima è così stronzo che fa anche rima forse posso tagliare da qui me lo auguro sto patendo non poco per tua informazione integratori 40 fumogeni fumogeni movimento rapido più frecce si ok perfetto direi a posto carta collezionabile cbb 73 cos'è super eroe quelli che guardava sempre lei essendo tanto che non giochiamo con ellie alcune cose me le sono persi mi sono sfuggite ti puoi buttare si bene shambler ok due fantastico con gli stalker lì bene sarà una bella battaglia ok inizia la battaglia ok fuori un altro stalker brucia brucia anche te devo curarmi devo curarmi devo curarmi devo curarmi curati ellie son morti bene si giuro su dio se ti hanno ucciso agli infetti anche son cazzi rosi chi capisco devo andarne da qui beh ma va c'è un tavolo da lavoro anche perché con ebbi modestamente mi pare abbastanza finita qui la storia 98 pezzi questo è stato potenziato al massimo giusto si danni quanto vuole 100 giusto beh per due proprio ora vado di revolver danni revolver yes vado di danni di revolver che secondo me nel futuro potrebbero dimostrarsi molto molto utili a parte che potevo uscire e appendere gli chamber qui però dettagli o forse no si potevo c'è sempre una via d'uscita ma dove sono? deve esserci una strada qui intorno eh questa intanto dopo tutto quel che abbiamo patito però gli scontri con gli infetti sono andati anche abbastanza bene ok santa barbara in basso 24 25 constance ok quindi joel ha intercettato le onde radio ok grazie per i nove pezzi in ritardo ci mancherebbe non mi dite che c'è da andare tipo laggiù e tutto il capitolo sarà fin laggiù perché io muoio proprio ok integratori qua c'è nulla qua c'è nulla si è impallato meno male si è spallato ecco lo stalker ecco lo stalker o l'infetto cos'è mi pare più un infetto normale io credo che queste siano delle ultime battaglie con gli infetti non ce la fanno infatti sono delle ultime battaglie con gli infetti diciamo in maniera seria è vero non ce la fanno a salire mi è stopputo tutto il tempo del mondo per ucciderli testa è un tiro al bersaglio ricarica mancata presa puoi ripigli la testa o non li pigli manca l'ultimo dove sei e che palle però ok troppe munizioni sprecate raga troppe cambio arma andiamo con la pistola normale grazie revolver sei stato un grande amico forse il migliore dopo la doppietta cosa strappolante clicker oh cazzo niente coltello cazzo cazzo Eppi... Eppi... E' sempre ossessionata eh Gli stessi uomini tra l'altro L'hanno sistemata per bene Cazzo Non durerà neanche un mese Io dico che per oggi abbiamo fatto... Le abbiamo prese tutte e due Tira giù quello e riattiviamolo Sul serio Non vale nemmeno la fatica del viaggio Non è... Cazzo Ti fa ridere? Ti sei cagato nelle mutande Che cazzo ha detto? Che fighetto Ti piace ridere? Alza! E basta! Lascia perdere! No! Ti pregano! Troppo divertente! Ma che cazzo fa? Temmune! Ah 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 Oh oh Madonna Ellie che potenza Cazzo! Cazzo! Aspetta! 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 Hai detto Abbi! Cerchi una certa Abbi, giusto? Ne abbiamo catturata una due mesi fa Due mesi? Sì, certo! Una ragazzona Bionda Braccia grosse Due mesi Con un ragazzino Magro e sfregiato Sì Sì, è lei Se mi lasci andare Ti dico dov'è Hai ancora tempo Prima che faccia infezione Parla È alla nostra base In cella E sarebbe? E adesso lo uccide Raggiunge i binari della ferrovia E seguile fino a un resort I prigionieri sono in un palazzo rotondo Cazzo Cazzo Preso Eh, ti ha regalato anche il fucile Lamentati Continuo a fare le foto per le copertine io, eh?